Trenino? Cosa? Trenino? Hai visto il griff della bandiera? L'ho sentito dire ma... Non l'ho mai dito Ah vabbè, fai la bandierina sul treno e dopo vi compare Dopo 40 secondi No Scusi, prima della prima safe dovresti avere tutte le safe pronte Sandro Che cafonata Cosa vai di classe? Cosa? Cosa vai di classe? Non so, devo fare scudi, scudi, se no uso il tiro Quello standard che usi tu? Ah, io standard uso o MP7, compa, l'epidemone, il criminatore, oppure tiro Sono secondaria a centrali MP7 Ah, ok, non fai il cecchino Ok Fendo appunti Il cecchino non lo so usarlo Oppure posso usare il card Però lo uso poche volte Vai, da solo Allora vado a M4 o cecchino E allora devi produrre Produzzi Allora non c'è negozio a monumento Possiamo che puoi cercare il monumento Hai prodotto adeguatamente Sono contento Andiamo, andiamo C'è i soldi? Un'altra cassa rossa, oddio Sì Spruz Spruz Trovami un negozio cristiano Trovate un negozio cristiano Aio Ma qua non è anche vappato Aio E beh, non parlami però Cazzo gatto Dimmi cosa devo fare E lo vado a fare Dovevo fare l'MP5 E allora hai detto Ce l'ho fatta già la 26 E allora hai detto Sti cazzo Guardate, devo sbloccare Beh, non mi dica lei Io non lo so Portare uno Cazzo gazzato? Ah, peccato Non avevo i soldi Per comprare cose zozze Venga, vada Andiamo a cazzo duro al bunker C'ho anche l'UAB Vamonos E io dovrei credere Che non c'è nessuno Allora Vip Vim Vim la domanda è salutato è chiuso, è chiusissimo vado in fondo ragazzi, apro senza prendere nulla veneto qua carino è una termita, me la vedo a dire possiamo andare c'è una maschera ce l'ho oddio ritorniamo al negozio sozzo c'è una 30.000 qua ok vado a mandare il balestra o il cecchino vado a mandare il cecchino vado a mandare il cecchino in teoria vado a mandare il cecchino no, no tu vai sexy con la nuova se devi pushare vai per primo io sono triste di questa mani in tutto atmosferico ma scusa metti l'operatore me lo blocco per aver sassaportato dello strozzatore mannaggia mannaggia ok cosa carina vado io spero non arrivi il juggernaut non è vero mazzo prendi tu il cosa? prendo io lancia il cubo ho preso il loadout tu prendi UAV dammi i soldi per l'attacco a grappolo lancia un altro lancia un altro di UAV top ok ah sono delle piccole ange quindi non prendere la balestra va bene se andiamo in posto sexy diventa interessante hai colpi piccoli? no son full ah bandiera sei un maiale oh aspetta un attimo qui c'è un sacco di ciote da tritare ah non importa interessante vado a fare cafonate ve l'ho dato il nemico mi serve un ping ping ragione? ho seguito a sinistra mi tolga il ping cortesemente due casse le loadout due casse le loadout è bollata mamma mia pezzo di merda uccidete questo qui ballanza? si ti sto aspettando a te io eh uccidete questo qui nooo bravo c'è qualcun altro uno sotto di me uno sotto di me si lo pingo si c'è gente a municipio eh? però ce ne possiamo sciacquare il pene com'è che era in Uganda ah io andiamo alla metro e andiamo alla al allo stare sei tu che sbatti? cazzo sono cagato io non lo sento forse per andare se mi sbatto in una porta io quindi posso dire a due parti ah un'altra ultima unizione felicissimo Perché fai, lo apri con calma e poi fai tipo lo scatto automatico e corre in automatico Chi fermerà la musica? Una corrente elettrica Se non arriva già che not vai Un po' un cesso, sì Ma son full tool, troppo Possiamo andare Che verrà il negozio? Develo far vedere una cosa, non abbiamo potuto venire Anche l'elicottero, no Ma what the fuck Eh, dovremmo andare almeno nelle colline Possiamo anche andare qui Allora, eccolo Allora, è stato arrestato qualcuno Ma scusa, il camion dove cazzo è passato allora? L'elicottero è andato distrutto Il camion è da luce dell'elicottero Sono abituato alla O del terrorismo, mi sto cadendo al posto C'è tutti i rumori che sento Non so qualunque la minimappa Uh, sono golosissimi È tempo di invucarci, come dicono in Uganda Sono fuori o sono dentro? Sono fuori o sono dentro? Ma era un po' Ma è vero Però se sentivi da qua era un po' Mmmmm Oh, la Ecco Gianni Pinotto Questo è morto Vai Uno ha craccato Uno ha confermato Vai Ah no, il coso Il kit di animazione A te la uno Porca troia Finanzato dov'è? Sta correndo Non so come dirlo ma era molto arrabbiato E dammi la sacca E dammi porco dio Se voglio qua mi incazza eh No, non voglio lo zainetto Voglio la scatola Ho trovato Ho trovato Sì Hai detto non me l'ha fatto Sì ma soltanto Eh eh Ah casetta vuoi? Casetta con un maiale Va bene Eh Eh Dio cane Devo andare a pompieri È un buon momento per dirmi che hai dieci trofee in tasca Questa non è bella ciò che dici Minchia Eh scagazza più 4000 in the frattempo? Allora Così se ti posso uscire uno di noi muore possiamo arrestare l'altro Eh La domanda è come crossiamo per andare lì? Dobbiamo crossare il prima possibile E dobbiamo farlo anche a piedi C'è anche un cavo e un bello spavaldino lì però è da pazzo Perché ci spottano e ci lasciano l'accesso più totale Eh sì sì Sotto al ponte Sotto al ponte Sotto al ponte Come fanno gli eroi? Va bene Facciamo gli eroi Eh lo so Ma noi non stiamo qui a romper il cazzo gli ricontri Oppure sì? C'è una balestra che urla No dai non romper il cazzo devo crossare siamo in open se romper il cazzo della cosa No ma non volevo pusciare me lo stavo crossando sinceramente però Ma dai ero per il cazzo? E' una da sopra top eh A terra Restati Vieni ti do la botta l'ultima volta Allora Ce l'andiamo eh Veicolo distrutto Non c'è più l'elicottero a A vaffaculo A pompieri Eh guardalo dove sta E' il cucciolo quello E allora Possiamo anche andare in mini police eh Anziché andare in questo accesso Mini police a fianco a pompieri Hai aperto la porta? Sì Pingo stronzo Oh no c'è uno c'è uno Vedi i posti Vedi i posti Stanno fu Apri il camion Cazzo No no Non scappare ti posso far vedere una cosa Oh ti ho fatto vedere una cosa Ti ho fatto vedere un'altra cosa Uh gli ho fatto vedere Craccatissimo Cazzo Porca puttana Ma dai E' one shot del camion Ho fatto due frecciate e mi sono convosso Allora pompieri secondo me è da difendere un po' un parto Anche perchè scostaria da questa finestra è da un parto in culo Quindi andrei che mini police Easy Ma dai ma siamo pazzi Allora questo elicotterino Eh si pretenzioso questo tiro Ciarla Ah come sono triste Mannaggia Cazzo avevo fatto un giro per andare a mini police Poi si è andato al zozzone Cazzo se fossi molto conto e forse l'avevo tritato Ehi Cos'è questo puntino rosso arrabbiatissimo Eh Ufff Hai dato il cazzo elicottero eh Tu ci fici tutta la partita così Vai vola vola Ci vediamo a fine partita Quanto trollerà da 1 a 35? 26 Pizzate No, noi ci stiamo ancora in tempo Non ci stiamo ancora in tempo Vai Pinglue, pinglue in the air Centro safe o chiusa? C'è proprio bordo et qua Centro e qua eh guarda E chi ci crede? L'ho detto, l'ho detto, l'ho detto che da noi Lo dico da terra Ah, i piastre, allora, facciamo una cosa intelligente Questa è la nostra base Ed è molto bellina Io scagazzo E dammi la roba Merda, c'è il riflesso, lo vedo in casa 12, 20 Claymore, bravo No, io non lo so, ho solo termiti Le incontro nel ritorno Possono essere il sopredino, è vero, con la scaletta Però non so se possono entrare dalla scaletta Qua non possono entrare Con la scaletta potremmo andare nella sua finestra Mi applaudo, se ci sono bravi loro Allora, mister del veggente delle safe Dimmi dove si chiude la prossima e ti applaudo Va bene, allora, come pensare? Se voi è rimasta al centro Dovrebbe essere... Non mi sono per niente cagato addosso Minca, una botta gliela voglio dare, porca troia Eh, ma è troppo difficile il tiro Mi faccio spottare per niente Ma se tu spari con la balestra ti compari sulla matta? Sì Adesso vedrai che c'è un minuto e 15 secondi Da te si sposterà verso l'alto Verso... In arancione Sono 11, 12, 17 Che cacchi vuoi dire? Io ho trovato il piccolo angelo che è vicino a banca E l'altro tipo di... dell'alga Conte Del bunker Eh, ma lui, ma lui, ma lui Vuole un bacio, vuole un bacio Forca troia Mi è stato distrutto Attento Spacco il lateral Veloce che stiamo arrivando Cazzo No No Ok Oh Nice Figo Ne vedi uno? Pingo, pingo È sotto, è sotto È sotto Uno è dentro Attento No, vada No, vada Non l'ho capita questa Se era uno solo lo ammazzavo Cazzo È in casa Prepuzio Oh no Questo non è stato bello Eh sì Io poi l'esercito È a lancio, è a lancio Vedo movimento È sotto Un'avvicinamento Ne restano solo dieci Ehi, 50 metri, che sia nel campanile? Chiudi la porta, posso che chiudi la porta? Ma che cazzo non ti ho colpito tizio? E' sceso, malissimo, c'è un team nelle colline. Non mi interessa. Non mi devo far uccidere i cecchini a cazzo di cane adesso. Devo restare un'altra safe. Vado un attimo giù che prendo munizione. Ok. C'è un trophy qua. Dopo immaginazione. Just my imagination, just my imagination. Ti sei rotto il cazzo? Ne rimangono cinque, concentrati. Va benissimo, mi concentro un sacco. E' quasi una wine solo questa adesso è diventata. Ok, facci. Non so come dirtelo quanto era più easy se c'eri anche tu. Questo qui è morto. Non l'ho capito. Cioè, non va, cioè. Vabbè, salvavo i due era finta. Cioè, non so come dirtelo. E ci credo intanto. Speriamo uno. Sento una persona. Che hai? Come stiamo andando? La maestra. Trolla indietro, trolla indietro. Fammi spruzzare da tutti i porti. Ho fatto la mia mossa standard. Pingami, pingami, pingami un sasso. Questo, sto andando in safe. Questo. Questo. Dove è nanna? Dove è il tuo amico? No. Ole. Come hai fatto? Come vuole come ho fatto? È messo a terra gli ultimi due. Ma c'hai il gas? Vabbè era più easy se c'ero anch'io Grazie al pen Posso dire di si E questa è la mia mostra standard Se ti ma safe mi butto direttamente nell'altra E butto la maschera Non fare caffonate a fine partita a cortesemente Stavolta ti sto appiccivato non mi muovi Tanto perché l'R9 più o meno mi servi Perché io prendo la classe complementare Se qualcuno mi puscia sono nella merda Ok andiamo a fare caffonate Ok